gentili telespettatori buona giornata la variante omicron ormai è in italia è arrivata un po diciamo dappertutto ci sono i primi casi 4 tra milano e lodi sono persone che sono rientrate dall'africa dopo il caso del primo quello il dipendente dell'eni rientrato dal mozambico sono stati individuati almeno quattro pazienti contagiati dalla nuova variante due sono residenti a milano e magenta e non tornavano dal sudafrica altri due risiedono a lodi i tamponi fatti dal sacco e dal san matteo hanno rivelato la variante dopo quindi si tratta dei primi due al momento hanno sintomi leggeri e sono rientrati dal che non sono rientrati scusate dal sudafrica segno che la nuova variante si è già diffusa sul territorio lombardo come sta avvenendo nel resto d'europa mentre gli altri due casi sono persone che rientrano appunto dal dalla dall'africa ma i quattro casi non sono collegati quindi per quelli che non sono ritornati dall'africa significa che hanno preso questa variante in giro e che vuol dire che già circola da un bel po la nuova variante già diffusa sul territorio lombardo come avviene nel resto d'europa e i dati sono poi stati comunicati all'ats che sta provvedendo a tracciare i contatti dei due pazienti al momento la regione lombardia attiva il sequenziamento utile a individuare varianti del virus viene svolta su tamponi dei vaccinati dei ricoverati delle persone di rientro dall'estero oppure in caso di focolai particolarmente estesi tutte situazioni d'allerta che richiedono approfondimenti parallelamente i laboratori effettuano poi i sequenziamenti random per mappare la diffusione e i cambiamenti del virus o virus come direbbe di maio l'arrivo di omicron era atteso beh non sono stupiti gli effetti gli esperti perché le pandemie non le puoi fermare così con le mani no con la sola imposizione delle mani no mi metto qui è come fermare il vento con le mani chi pensa di fermare queste cose chiudendo le frontiere da un giorno con l'altro non ha capito che queste cose non si fermano così bene i blocchi aerei non fermano le varianti dicono la regione lombardia come vi dicevo io qualche secondo fa se omicron si diffonde così velocemente come sta facendo in altri paesi tra poco sarà addirittura dominante di conseguenza i numeri dei contagi potrebbero crescere molto più in fretta di quanto avviene ora pertanto quei modelli statistico matematici che dicono 30.000 contagi intorno a natale potrebbero essere potrebbero essere non realistici perché questa variante diventando dominante ed essendo molto più contagiosa potrebbe portare a molti più casi non è ancora chiaro se questa variante causi forme più gravi della malattia o no perché perché no perché non si sa perché gli studi sono su questo ancora in corso ci vuole tempo se scopri una variante non è che il giorno dopo puoi scrivere un'enciclopedia ci vuole tempo per capire studiare i casi e vedere tutto quello che succede intanto Zaya il presidente della regione Veneto fa capire anzi dice chiaramente che dal prossimo lunedì il Veneto è in zona gialla l'annuncio appunto di Zaya in conferenza stampa e dice avevamo un canale preferenziale una linea dedicata nei centri vaccinali sta parlando poi che dalle 14 di lunedì cioè di oggi sono aperte le prenotazioni per la fascia 5 12 anni il bollettino di venerdì prossimo certificherà che da lunedì 20 dicembre saremo in zona gialla dice il presidente della regione Veneto Zaya e quanto annuncia proprio nel corso della conferenza stampa per fare il punto della situazione è una tipica fase acuta prosegue Zaya e a breve non vi è sentore di un'inversione di tendenza i dati ci dicono che il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 12,8% e l'incidenza dei contagi è già zona gialla ci sono dati che dicono che l'infezione sta correndo ma l'incidenza sui tamponi è del 4,5% che è un dato più alto della media nazionale siamo dice la decima regione con una maggiore incidenza la prima sono le marche con il 9,23% dice poi la pressione ospedaliera comincia a farsi sentire il covid è un paziente complicato che prevede team di cure impegnative esporzi ospedalieri e di cura importante 9 pazienti e mezzo su 10 vengono curati a casa ma quel 5 su 100 che richiede un ricovero devono trovare un posto letto assolutamente per le cure il presidente della regione dice su eventuale zona rossa le proiezioni statistico matematiche non non la vedono a oggi dice non abbiamo proiezioni di zona rossa o da zona rossa se il problema è quello delle vacanze natalizie prenotate senza problemi prenotate senza problemi dice Zaya sembra sempre che la parte economica sia preponderante lui sta parlando di espansione del malattice le vacanze prenotatele dice tra parentesi prenotate le vacanze capite che l'economia viene sempre prima di tutto il natale sarà giallo dice sarà anche capodanno poi se continua a crescere sarà anche arancione fra un po' ti dice che sarà rosso però al momento non c'è nessuna previsione per appunto per arrivare alla zona rossa dice stanno facendo bene ecco e sulle restrizioni alle manifestazioni pubbliche dice vanno vanno fatte sono il primo a difendere le tradizioni ma il rischio di assembramenti senza protezioni e mascherine è reale siamo in fase di pandemia e per quanto riguarda la campagna vaccinale dice i parametri sono assolutamente incoraggianti siamo a 86,6% andiamo verso l'87% di copertura vaccinale della popolazione over 12 e un altro dato è rappresentato dai vaccini nelle ultime 24 ore con 37.000 in più 37.000 solo nel Veneto è un dato abbastanza importante e consistente io vi ringrazio per avermi ascoltato ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti grazie a tutti arrivederci